Siamo qui in diretta dal P-Studium, ingresso in campo, Super Eleven, quarti di finale, Red Rost contro FC Dios, le formazioni che schierano adesso lì al centro del Manterboso a salutare i propri tifosi. Inquadriamo le due formazioni, abbiamo incontro Alessandro Passarella, formazioni che passano a darsi il 5, e che poi si schierano a parte in vestita del campo, da inizio al match. Due capitani al centro del campo, a sorteggiare l'ottocco per la balla per il campo. Sorteggiati, vale il campo a stare da inizio al match, un saludo. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.